leggendo Calvino, raccontando Marchezze, leggendo Alda Merini, non c'è, per cui se noi questo ce lo dimentichiamo finiamo a pensare a qual è il cantante più famoso che c'è, mi sembra una logica veramente sbagliata ora, visto che, diciamolo molto francamente, proprio per il discorso, anche il discorso di costi e di sobrietà di questo momento non c'è Bruce Springsteen che viene a suonare con noi, ci sembrava il caso di fare un'edizione all'insieme della sobrietà da questo punto di vista, da un punto di vista formale ma non dei contenuti, cioè raccontare contenuti importanti far diventare questo non solo un concertone ma una manifestazione di piazza dove racconteremo le storie d'Italia alcune brutte, alcune magari invece positive per cercare di spiegare che c'è speranza nella disperazione in un momento complesso, complicato, la vita lavorativa e culturale del nostro paese cercheremo di dare la nostra piccola impronta spostando un pochino l'asse di quello che è il concertone non è che faremo la messa cantata, però, perché comunque abbiamo i momenti divertenti c'è Dario, c'è Francesca a fare delle cose più istituzionali, io farò il mio mestiere, quello di fare l'attore raccontando le storie, però puntiamo sul fatto che dentro al nome del cantante al contenuto di cosa porta su questo palco e in questo senso è andata la scelta della direzione artistica e in questo senso cercheremo di metterci, credo di parlare a nome anche di Dario e di Francesca a disposizione della manifestazione e quindi siamo felici anche che da qui partano altre manifestazioni sul primo maggio e ci sembra un segnale molto buono che ci sono altri momenti in altri posti d'Italia per ricordare perché questa cosa si fa il primo maggio Io volevo solo aggiungere qualche cosa, sempre sul cast di quest'anno ci lamentiamo sempre che i giovani non hanno spazio, che gli esordienti non hanno un palco ci lamentiamo che i talent sono, che assolutamente sono una bella vetrina però sono un'opportunità per i giovani però con delle basi musicali qui sul palco si esibiscono dei gruppi dal vivo ci sono dei gruppi esordienti, ci sono tanti giovani che hanno anche realizzato dei piccoli grandi sogni che vengono da territori dove la musica è un po' il pane quotidiano ci sono dei giovani che con la propria musica trasmettono dei messaggi anche sociali che sono molto forti mi viene in mente per esempio il quasi miracolo che sta riuscendo a compiere Rocco Ant il successo di Clementino, oltre naturalmente a tutti gli artisti più noti che voi conoscete e poi ci sono anche delle storie che riescono ad essere appunto un raccordo fra il nostro passato, il nostro presente e il nostro futuro vorrei soltanto citarvene alcune per esempio c'è la storia di Lidia e Paolo che si sono conosciuti sul posto di lavoro e ricordiamo che questa esperienza è stata anche raccontata in un programma televisivo molto riuscito che è Hotel 6 Stelle parleremo di diversità, parleremo di amicizia, parleremo di resistenza che è un tema molto caro a chi lotta per mantenere il proprio lavoro chi lotta per avere un lavoro e avremo quindi come ha già detto Edoardo dell'omaggio a Alda Merini avremo Petrini che ci racconterà come si possano realizzare dei sogni con questo suo progetto di costruire degli orti in Africa 10.000 racconteremo delle storie che sono state spesso dimenticate anche dolorose della nostra Italia come per esempio il caso di cronaca noto di Elisa Claps che sarà accompagnato da un gruppo lucano che è di potenza, che è musica manovella io vengo dalla Basilicata, da un piccolo paese e noi abbiamo sempre considerato il primo maggio non so, l'obiettivo per chi faceva musica anche perché avendo talmente poco suonavamo un po' a tutti e cantavamo ma per noi il primo maggio questo palco era un obiettivo un obiettivo che ha comunque un'ideologia ben precisa quindi ci raccontava anche dove volevamo arrivare non solo a livello musicale e noi organizzavamo questi pullman arrivavamo a Roma e consideravamo il primo maggio una festa e anche quest'anno sarà una festa è vero all'insegna della sobrietà ma cercheremo comunque di preservare questo elemento perché non deve mancare anche quando si raccontano i problemi c'è sempre l'altro lato della medaglia cercherò io di fare un po' da raccordo fra queste storie e la musica cercherò di introdurre a livello anche un po' più serio alcuni interventi, alcune interviste e sono la quota rosa di questo concerto del primo maggio le donne comunque saranno molto citate non sono invisibili sul palco anzi sono un elemento fondamentale di quasi tutte le storie che vi racconteremo quindi non sono assenti ci sono anche delle attrici che contribuiranno a sostenere le storie che vi racconteremo e quindi speriamo di riuscire anche quest'anno a far sì che questo format possa essere raccontato in maniera differente pur mantenendo però la sua anima pulsante più bella che è quella proprio del concerto del primo maggio che insegna di questo messaggio molto forte che è il lavoro, il diritto, un dovere ma è soprattutto un diritto una donna solo ma ha parlato in modo esaltivo quindi ci siamo perreco, scusate la mia ex non so cosa sta facendo mi manchi anche te però stai scherzando o lo stai facendo sul serio? ah, e cos'è questa roba qua? ah, scusate facciamo sono le nuove tecnologie ah, perfetto si chiamano così io non riesco io sono ancora guarda sai il fianco del video che sai sto guardando il porno ancora con il superotto figuriamo come siamo messi perché quello è tutto mosso però insomma detto questo è stato già detto tutto il primo maggio è questo qua mi sembra che la cosa buona e nuova sia questo modo di mettere sul palco attori, personaggi italiani che hanno fatto delle cose sensate scrittori come Maggiani Petrini quindi è utile ripetere tutta sta roba che abbiamo fatto e nel mio caso cercherò di fare da collante ogni tanto tra uno slo dell'altro cercando di intervistare magari dietro le quinte Pelù mandandolo sullo schermo gigante con delle interviste che faccio un po' così a Vandera e questo è tutto e credo che sia importante questo primo maggio soprattutto anche perché queste serie cioè il momento dei sindacati che stanno vivendo anche loro la crisi perché rappresentano fondamentalmente tutto quello che sono i lavoratori in un momento che sono il cuscinetto tra un disagio no? tra pensionati ci limitiamo sempre però in questo momento il discricchiolamento tra gente che si può incazzare e che perde il posto di lavoro tra quelli che non ce l'hanno addirittura tra quelli che lo perdono e quelli che lo cercano in mezzo c'è ancora poi il sindacato non è bene o nel male cioè deve anche il sindacato secondo me correre veloce in modo da essere attento più che sentinella scusate forse c'è stato un bradisismo scusate in questo momento ti vorrei tenermi in mano c'erano anche i cavalletti quelli grandi e li vendono ancora e ci sono e va bene è detto spercazzate qua però insomma era una cosa seria sul discorso sindacale quindi insomma devono essere secondo me sempre costantemente presenti sia con i giovani che con gli anziani che con tutti e presidiare il territorio finché finché ce la fanno finché poi non salterà tutto chissà dove è importante questo primo maggio secondo me godano anche lui e credo che lo sappia perché a livello mondiale questo primo maggio di Roma intanto noi siamo qua ma siamo anche sorvegliati da quattro papi che ci guardano mentre noi stiamo dicendo nostre stupidaggini quindi non si trova un altro posto così dove c'è Voittila da una parte Papa Giovanni da un'altra parte e forse anche Francesco che forse interverrà cantando qualcosa anche lui con un suo coro quindi detto questo salutiamo e ringraziamo ultimo applauso e poi ci abbiamo anche un personaggio che vi racconterà perché è qua perché è qua questo a Capuano fate un applauso a Capuano perché la costante è fissa ormai non ho perso l'applauso io per te pensa come siamo messi poi dicono che i liguri sono tirchi vabbè un applauso insomma no no velocemente l'elemento che a me sta caratterizzando questo primo maggio è anche la presenza di gruppi che partecipano a un contest e questo è molto interessante perché al di là dei gruppi che hanno un premio vero perché suonare su un palco di questo tipo credo che sia un grande sogno lo auguro veramente a chiunque suona di vivere almeno una volta un'esperienza di questo tipo perché è un'esperienza importante però anche la prova soprattutto nelle adesioni che ci sono state oltre 450 è la prova che in Italia ci sono una marea di gruppi di esperienze artistiche disseminate nei nostri territori nei quartieri nei paesi che purtroppo non hanno ancora la giusta visibilità e secondo me poiché secondo me in patrimonio artistico anche questa marea di gruppi che esiste che esprimono cose interessanti particolari magari in qualche cantina c'è qualche gruppo che può somigliare che sono i nuovi aria che ne so o in qualche altra parte qualche altro gruppo pensavo che si mette i nuovi angeli anche i nuovi angeli perché ci sono anche i tempisti dei sogni però dicevo e quindi è la prova che c'è questa è la punta di un asberg di tanti tanti gruppi allora forse attraverso questo contest possiamo rivendicare che in Italia c'è bisogno di dare un pochettino più di sostegno non solo a tutto il mondo dello spettacolo ma della musica non c'è ancora una legge sulla musica non c'è ancora un sostegno concreto per queste esperienze così interessanti che sono le band i gruppi i ragazzi non solo ragazzi che si organizzano e fanno della loro musica e quindi attraverso questo contest si può anche rivendicare attraverso anche i sindacati perché no perché siamo perché quando tu dici che lavoro fai il musicista sì ma che lavoro fai il musicista è la prova che probabilmente non c'è un riconoscimento anche culturale di un lavoro che dietro al musicista poi c'è sta il fonico c'è quello che fa i punti di parchi insomma c'è un indotto c'è lo spacciatore dice per gasola e quindi e quindi è questa un po' la cosa che vogliamo rivendicare mi fermo qui insomma buon divertimento l'intervento ha fatto uscire il sole vi dico solo questo siccome guarda mi ha detto che non parla però lui farei chiudere guarda se non ce la fa il più forte di lui adesso ridice tutto quello che aveva detto al contrario come nei dischi rock e viene fuori satana io mantengo quello che ho detto e chiedo anzi a Massimo Bonelli che quest'anno in modo particolare è stato il braccio operativo economico finanziario di tutta questa operazione vi chiedo adesso a Massimo e vi passo subito la parola per leggere per leggervi la scaletta di domani così tanti particolari vostri potranno venire fuori vorrei dire solo una cosa perché perché l'ho detto in questi giorni e non sempre è stata colta per in fondo cioè noi siamo convintamente e decisamente a favore di un moltiplicarsi di piazze di concertoni di feste del primo margine in Italia non esiste una statistica che ci dice esattamente quello che succede da quello che so io sono centinaia se non migliaia le feste che si svolgono domani in tutti nei piccoli piccolissimi paesi medi grandi più o meno coperti o raccontati dai media sicuramente dai media locali uno per tutto l'ho detto Edoardo Bennato l'avevo invitato due giorni prima oggi ho scoperto mi sono ricordato dove era sta a Capannoli che è un importante paese della Versilia provincia di Lucca ma ce ne sono altre decine e centinaia sino a che questi appuntamenti cresceranno si moltiplicheranno attenereranno artisti e pubblico noi siamo contenti perché non conosciamo crisi questo concertone negli ultimi anni basta che voi vedete guardate che cosa succede e che cosa succedeva negli anni passati negli ultimi tre quarti d'ora dove normalmente la piazza si svuotava visibilmente e dove invece negli ultimi anni negli ultimi anni la piazza è colma totalmente colma fino a mezzanotte e anche dopo quindi questo qui è la nostra gioia perché ci sentiamo eredi non eredi di un patrimonio dici GLC is the will che sono 25 anni che ha 25 anni di storia e siamo orgogliosi chi mi conosce sa che su queste cose io mi inferbolo perché ci credo per davvero perché sono anni che mi batto e mi smazzo perché succedono determinate cose non vogliamo né essere trascinati perché noi siamo strafelici di quello che sta succedendo in giro non abbiamo nessun tipo di problema e quindi lo affrontiamo con totale serenità anzi facendo il titolo proprio perché ci sia quindi questo qui ci teniamo Massimo che ci sentiamo che ci sentiamo che ci sentiamo Grazie.